Buongiorno a tutti, sono Tommaso Salvadori e questo è il primo video del nostro nuovo canale. In questo canale vi presentiamo le nostre aziende, i servizi e i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Le aziende sono tre. La prima è la Salvadori che fu fondata nel 1919 dal mio bisnonno Ettore e si occupa di spedizioni internazionali, trasporti e dogani. La seconda, la Badiali, che gestisco da sei anni insieme alla grande professionalità dei signori Badiali. Fu fondata nel 1897 dal loro nonno e si occupa da allora della produzione di imballaggi in legno per la protezione delle merci durante il trasporto. La terza è la Battagliona, azienda anch'essa ormai centenaria che nasce come azienda agricola e dal 1999 invece produce vino, dopo che mio padre Alberto Salvadori decise di letteralmente inseguire un sogno. In questa realtà c'è un unico fattore comune, la famiglia e i valori che solo essa sa tramandare nel tempo. Come dico sempre, non tutto ciò che succede, succede per un motivo, ma tutto ciò che sopravvive sicuramente sopravvive per un motivo. Il mio obiettivo è fare impresa a modo mio, cercando nuove strade per servire il cliente sempre e per fare ciò non c'è mai stato un momento migliore di oggi. Per questo partiamo. Vi presento